Ti dico assolutamente qualcosa che per me è legge e che in questo particolare momento della mia vita è divenuto la prova che per investire la pianificazione è cruciale. Ti andrò a dire esattamente quali a mio parere come sempre sono le cose da fare per investire da principiante e come queste tecniche diciamo di base ti possono aiutare anche da esperto. Ma vediamo tutto in questo video. La struttura del portafoglio che voglio andare a presentare oggi ha tre punti fermi che devono essere ben chiari prima che io inizi a parlarne. Per cui seguitemi bene sia all'inizio ma anche alla fine del video per comprendere appiene il mio ragionamento. Alla fine poi vi andrò anche a lasciare un google sheet oppure uno spreadsheet se volete dirlo all'inglese che se volete potete copiare e scaricare per andare poi a simulare il vostro personale portafoglio basato sui vostri studi e sulle vostre necessità. Il primo ragionamento che ho fatto per questo portafoglio è di essere conservativo per cui non si pone la ricerca del rendimento assolutamente eccezionale a tutti i costi a due o tre cifre giganti ma punta più di tutto a calmirare le possibili situazioni di volatilità estrema pur non disconoscendo un ottimo profitto. Non è un hyper growth ma per intenderci non è neanche il conto deposito. Per tale motivo sarà prevalentemente azionario ma ci sarà anche la possibilità per chi lo voglia di adeguarlo con delle obbligazioni con dei bond. La seconda cosa è che ovviamente guarda a lungo termine se guardi questo video perché hai in mente di fare tantissimi soldi subito torna indietro e ascolta il punto 1 oppure vai sui canali di chi sta a Dubai. Se si è alla ricerca di un portafoglio conservativo bisogna avere anche la pazienza affinché questo possa creare il cosiddetto effetto palla di neve e non di palla al piede. Il tempo necessario è finché tutto questo possa funzionare tanto almeno 5 meglio 10 anni. Ultima cosa non per importanza non sono il dio dell'investimento e non commentatemi che si poteva fare così o colì di meglio di peggio di la la che tra la la sono una persona come tutti voi come tutte le altre che cerca tramite la propria curiosità di trovare sempre strade diverse se possibile semplici per fare le cose più complesse. Per cui quello che apprezzerei sono le vostre opinioni e critiche costruttive qui sotto e non si poteva fare meglio. Lo so che sicuramente si può fare meglio ma altrimenti sarebbe bello ricco famoso biondo occhi azzurri e nonché alto. E non sono nessuna di queste cose. Primo passo la liquidità. Il primo step è proprio la liquidità. Questa non serve solo in periodi di magra per cui quando tutte le azioni vanno a scendere ma anche quando tutto sembra essere in bolle e salire. Perché? Questo perché molte aziende o etf che sono nella nostra watch list potrebbero per un qualsiasi motivo andare in senso inverso in senso opposto rispetto al mercato per variati motivi che non conosciamo e che non sono né preventibili e che a volte neanche comprensibili perché Mr. Market vive in un mondo tutto suo. Detto questo a quanto questo importo dovrebbe abbontare? Non ci sono regole precise ma a mio parere avere una liquidità al di sotto del 15% del proprio patrimonio potrebbe impattare la nostra capacità di sfruttare le occasioni o di ottimizzare i propri acquisti. Per cui non meno del 15% ma per un investitore come noi nel mondo retail medio non andrei oltre il 30% nel nostro patrimonio. Questo perché dall'altro lato non vorrei essere nella situazione di pensare di fare market timing che è una cosa impossibile magari tenendo soldi fermi per mesi se non per anni a marcire sotto il peso incessante dell'inflazione. Si tratta praticamente di tenere questa bilancina in equilibrio con le nostre possibilità economiche e ovviamente in linea con i nostri obiettivi anche perché come dicono in inglese time in the market beats timing the markets per cui il tempo che i soldi sono impegnati ad essere investiti nel mercato batte chiunque voglia fare il timing sul mercato ovviamente se investito con criterio. Passiamo poi al core del portafoglio la parte preponderante del portafoglio a mio parere dovrebbe essere composta principalmente da ETF che seguono indici ampi come un MSI World o un S&P 500. Questa base ferma deve andare a creare una stabilità dello stesso che possa poi rispecchiare alla perfezione il mercato totale e non essere legato a problematiche strutturali ad esempio di un settore o di un paese specifico. Insomma se tutto l'indice MSI World va giù per una guerra mondiale credo che i nostri investimenti siano gli ultimi problemi di cui dovremmo andare a preoccuparci. Però partendo da una base di rendimento medio storico ad esempio dell'S&P 500 all'ordo dell'inflazione al 9% circa e al netto del 7% circa possiamo stabilire che seppure questo non ci dia nessuna sicurezza che in futuro questi parametri siano effettivamente rispettati in ogni caso è una buona base per cominciare a costruire qualcosa di interessante su cui andare a poggiare i nostri soldini. Piazzare delle fondamenta solide e poggiarci su il nostro futuro. Ora a quanto dovrebbe ammontare questa porzione o proporzione totale del portafoglio? Io sono molto più conservativo forse troppo ed ho in questa parte un 70% di ETF ma credo che una persona con un'età che non sia matusalemmica come me e per cui che sia al di sotto dei 45 anni possa tranquillamente puntare a un range che vada fra il 25% per i più aggressivi perché poi vediamo cosa succede dopo in questo portafoglio a un 40% circa per i più conservativi. Ovviamente sono da considerare come dicevo prima solo ampi indici e in questa porzione sono da evitare degli ETF settoriali sia in termini geografici che di industria per cui anche quelli tematici. Eccoci arrivati poi alla parte Grow. In questa porzione io propenderei vista la natura conservativa di questo portafoglio scegliere azioni singole sì ma solo di enormi dimensioni le cosiddette Mega Cap o al massimo Large Cap. Andare sotto questa denominazione per cui sotto questa grandezza a mio parere espone a un rischio troppo grande vista la natura del portafoglio con evidenti drawdown e problematiche di volatilità molto più estrema. Quello che si vuole fare invece di andare a completare il portafoglio fatto lavorando con gli ETF dando quello spunto in più senza andare a impattare il rischio in maniera troppo pesante. Ovviamente non indico cosa inserire ma i nomi che mi vengono in mente sono quelle delle Large Omega Cap come Apple, McDonald's, Visa, Omdipo eccetera eccetera eccetera. Insomma rendo l'idea no? Ovviamente queste scelte devono comunque essere fatti con un criterio e con un'analisi perché anche le Mega Cap possono fallire e in passato sono andate a zampar l'aria e per cui uno studio approfondito delle trimestrali, della crescita, del vantaggio competitivo, del mercato di riferimento sono passaggi da completare per evitare catastrofi monetari così come per le Large Cap ma per tutte le asset in cui andiamo a investire. E ovvio aggiungere sono aziende che devono rispecchiare la vostra strategia di investimento. Se andiamo aziende che distribuiscono anche dividendi sostanziosi andiamo ad analizzare maggiormente quelle. Se invece puntiamo alla crescita in prevalenza e basta ci andiamo ad orientare a nomi diversi ma per esempio in questa categoria potete mettere Meta o Alphabet per citarne due. Questa porzione a mio parere non dovrebbe andare sotto il 15% per cominciare a dare dei frutti ma neanche superare il 25% per i più aggressivi perché si andrebbe poi a perdere la natura conservativa del portafoglio stesso. Better save than sorry insomma. Poi passiamo al tuo tocco. Questa ultima parte propende alla personalizzazione più accentuata quella che ci distingue come investitori. Vogliamo un ETF settoriale? Vogliamo uno più penny stock o small cap nella quale crediamo? Vogliamo una hyper growth che crediamo sia sottovalutata? Oppure vogliamo ulteriormente abbassare il rischio aggiungendo un pochino di bond o di ETF obbligazionari a distribuzione o ad accumulazione? Ognuno di noi è diverso e andrà a trovare la risposta in maniera molto personale in questa sezione. Se si punta ad azioni molto speculative sia che ci si trovi in un'età matusalemmica con me o che si sia giovani bisogna ben capire che le analisi vanno fatte approfonditamente ancora di più che nelle mega cap. Qui a mio parere oltre a capire il business bisogna anche capire il mercato di riferimento gli impatti che tutte le situazioni micro e macro economiche possano avere sul business in questione e se effettivamente l'azienda stia crescendo nel tempo e che vantaggio competitivo possa avere nei confronti sia del mercato generale di riferimento che dei propri competitor. Valutazioni che vanno fatte per tutte le aziende ma per quelle più piccole upper growth, small cap, penny stock devono essere ancora più minuziose perché possono andare a zamperlare con molta più facilità. Anche per i bond a meno che non si vadano a scegliere delle soluzioni di paesi con elevata stabilità e rating moltissimo io personalmente andrei a preferire ETF ma solo perché sono un grande inconoscitore per cui non sono un grande esperto di bond inconoscitore che termine che ho usato nuovo anzi in realtà per come sono io andrei solo azionario ma ci siamo capiti il concetto è quello che conta in questo contesto e in questa porzione di portafoglio io non andrei al di sotto del 5% del portafoglio totale e non andrei al di sopra del 10% si tratta di rifiniture al tutto e come tale a mio parere vanno trattate e raggiunte. Vi ricordo che potete testare la vostra particolare strategia e la vostra asset allocation personale e seguirla a vostro piacimento basandovi anche sul vostro patrimonio personale se ad esempio considerassimo una decina di migliaia di euro questo potrebbe essere un mio personale portafoglio che vi lascio appunto nel link qui sotto basato su questa strategia e ragionamento però voi potete andare ad aggiornare questo spreadsheet a vostro piacimento in base a quelle che sono le vostre esigenze. Bene ricordandoci che questi non sono né così a investire o non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo gradimento con un bel pollicione in su se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona anzi un'ottima idea cominciare a far parte di questa community con una maggiore presenza la tua iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche bene io ti saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao